Ciao a tutti oggi prepareremo la mostarda d'uva. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 20 minuti. Gli ingredienti sono mosto d'uva, amido di mais, cannella, nocciole, granella di nocciole, noci e granella di noci. Andiamo il via la ricetta. Andiamo a mettere nel boccale il mosto d'uva, l'amido di mais, e andiamo a cuocere per 15 minuti. Temperatura paloma, velocità 3. La nostra mostarda è pronta. Andiamola a trasferire in delle ciotole e in degli stampini. Adesso andiamo ad aggiungere le noci. Facciamo affondare leggermente. Nelle altre mettiamo delle nocciole spezzettate. E anche qui le lasciamo affondare leggermente all'interno della mostarda. Mentre l'altra la lasceremo intatta. Lasciamole raffreddare e subito dopo le andremo a rifinire per impiattarle. Dopo aver fatto riposare la nostra mostarda, questo è il risultato. La possiamo servire nella versione classica solo con polvere di cannella, nella versione con nocciole, cannella e granella di nocciole, o nella versione con noci, cannella e granella di noci. Mostarda d'uva. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.